E' il 14 dicembre del 1900, sono quasi le 5 del pomeriggio e un signore, davanti a un editorio di eminenti colleghi, scrive alla lavagna una formula mai vista prima, E uguale N H F. Quattro semplici lettere. E' il risultato dello studio dell'emissione del corpo nero, che è un modello teorico che permette di descrivere tutti i corpi che assorbono la totalità dell'energia che ricevono e riscaldandosi emettono radiazione elettromagnetica, cioè energia luminosa, luce insomma. Gli astanti rimangono sbalorditi, perplessi, qualcuno accenna a un sorriso beffardo e il relatore però li tranquillizza. Dice, non vi preoccupate, è solo un artificio matematico, le ultime parole famose. Il relatore è ovviamente il fisico Max Planck, che è qui nella foto, e la formula che ha scritto è l'inizio della rivoluzione quantistica. Lo chiameranno il rivoluzionario riluttante. Non il possesso della verità, ma la lotta vittoriosa per conquistarla è ciò che fa la felicità. Nasce nel 1858 in Germania, vive abbastanza lungo per vedere il crollo dell'impero prussiano, la prima guerra mondiale, l'avvento del nazismo, addirittura per aver difeso Einstein viene soprannominato l'ebreo bianco e morirà poco dopo aver compiuto 90 anni. Dopo la fine della seconda guerra mondiale. Un rampollo di una famiglia di giuristi e teologi, quindi famiglia importante, carattere tranquillo, pacifico. Si iscrive alla facoltà di fisica, anche se glielo avevano sconsigliato perché gli dissero non c'è niente da scoprire e lui forse proprio per quello decide di iscriversi a fisica. Quindi diciamo un rivoluzionario suo malgrado. sfortunatissimo nella vita familiare, nel 1909 perde la moglie, amatissima fra l'altro. Poi durante il primo conflitto mondiale perde il primo genito. Le sue due figlie gemelle, perché ebbe due figlie gemelle, la prima morì di parto e la seconda si prende cura del nipotino, si innamora del cognato vedovo, si sposano e anche lei muore di parto, rimane incinte e anche lei muore di parto. Infine il quarto figlio viene coinvolto in una congiura che mirava ad assassinare Hitler e quindi viene giustiziato. Insomma l'unico figlio che gli sopravviverà è l'ultimo genito Hermann, molto amico di Einstein, tanto che da spingerlo ad accettare una cattedra all'università di Berlino, cioè è stato Planck a convincere Einstein a trasferirsi a Berlino. E addirittura teoria della relatività, questo nome così importante, lo darà proprio Planck. Ma perché la costante che porta il nome di Planck è così importante, tanto che può meritare l'appellativo di costante fondamentale del microcosmo ed è oggettivamente la base della meccanica quantistica, cioè la teoria più sconvolgente del microcosmo. E' comunque una delle teorie fisiche più sconvolgenti che ci siano, più sconvolgente persino dalla relatività. In poche parole la formula di Planck ci dice una cosa, i modelli che erano stati creati fino a quel momento di fisica prevedevano che l'energia fosse una grandezza su cui si basa tutta la fisica classica. Tra l'altro energia è la capacità di compiere un lavoro come definizione, capacità di compiere un lavoro. E quindi l'energia fino a quel momento la si riteneva una grandezza continua e quindi la si studiava esattamente come si studiano tutte le funzioni continue, limiti, derivate, integrali e quant'altro da esso conseguente, che permettevano di descrivere praticamente tutto il cosmo conosciuto. Quando Planck scrive questa questa formula fa un salto, addirittura forse si può vedere meglio qui, fa un salto notevole. Perché? Perché è come dire, che ne so, che se io sto viaggiando a 10 metri al secondo e poi accelero e mi porto a 11 metri al secondo, faccio per dire se questa è la velocità, nel passaggio da 10 a 11 metri al secondo passerò tutti gli intervalli presenti, gli infiniti intervalli presenti tra 10 e 11 metri al secondo. Non è che per esempio 10,55 non lo faccio, per esempio 10,792 non lo faccio, faccio tutti i passaggi, no? O anche se devo salire o scendere una discesa, se io sono qui e arrivo fino a qui, beh tutte le altezze che ci sono da lì fino a su le posso percorrere, non c'è un'altezza che, che ne so, se vado, se qua sono a 20 metri, qua sono a 30 metri, non c'è un'altezza tra 20 e 30, un'altezza che io mi posso scegliere a caso, non so, 20,9 oppure 28,747, che so io, per dire dei numeri a caso. In teoria io sono passato in tutte queste altezze per arrivare da 20 e 30 metri. Ebbene, se è vera, se fosse vera questa formula, tutto ciò non sarebbe più vero, cioè il mio, anche il mio stesso muovermi da qui, sarebbe un muovermi a scalini, gli scalini sono talmente piccoli che io non li vedo, ma ci sono, quindi non posso in realtà muovermi da 20 e 30 metri facendo tutte le altezze che sono presenti in questi 10 metri di dislivello, non posso mai scendere sotto una certa misura. E se volete trasferire questo discorso all'energia, l'energia ha un minimo, che è proprio dato da questa formula, è il minimo, questo è un minimo sotto il quale non si può andare, quindi la costante di Planck è una sorta di di base sotto la quale non si può scendere, h uguale circa 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo. Pensate che se h fosse solo un pelo più piccola, noi saremo carbonizzati da un'emissione di raggi ultravioletti, addirittura di raggi X, addirittura gamma, cioè non potremmo non potrebbe esistere un universo così come è fatto insomma. Ma cosa rappresenta precisamente dal punto di vista fisico h? Come Planck è arrivato a scoprirla? Partiamo col dire che Planck chiamava questa costante quanto d'azione e poi lo studio delle emissioni del corpo nero, ma il corpo nero era un problema che attanagliava i fisici da diversi decenni. Prendiamo un tizione ardente di un fuoco, tendenzialmente i tizioni ardenti sono così e sono sul rossiccio. Oppure prendiamo un ferro di un fabbro che lavora il ferro e lo sta modellando. Ecco qua la colorazione può arrivare addirittura all'azzurro. Prendiamo anche la serpentina del tostapane oppure meglio ancora prendiamo quei locali che sicuramente avrete visto nei film dove ci sono questi operai addetti a riempire di carbone questa centrale questa mini centrale all'interno di una locomotiva è una sorta di corpo nero perché perché assorbe tutta l'energia non la lascia uscire perché questa è una camera chiusa dopo che hanno gettato il carbone poi quasi chiude c'è solo una piccola finestrella aperta quindi in teoria questo è un corpo che assorbe completamente tutta l'energia che gli viene data e la restituisce sotto forma di onda elettromagnetica questa è la definizione di un corpo nero queste sono tutte esemplificazioni di un corpo nero addirittura anche il sole è un corpo nero ma perché per esempio il tizzone di legno nel fuoco è rosso mentre appunto il sole è giallo o meglio perché man mano che scalda un pezzo di ferro e in generale qualsiasi oggetto io prenda all'aumentare della temperatura i suoi colori passano dal rosso al giallo all'azzurro addirittura se siamo sul rosso vuol dire che la temperatura è di circa 800 gradi centigradi più o meno mille kelvin e quindi siamo a rosso se parliamo della superficie del sole arriviamo anche a 6.000 gradi centigradi ebbene ma questi colori dovrebbero ricordarci qualcosa è quello che ci ricordano esattamente questo cioè lo spettro del visibile sono i colori dell'arcobalene in buona sostanza quindi questo è lo spettro elettromagnetico partiamo dalle onde radio radio waves come si vede fino ai raggi gamma quindi questa è la frequenza che cresce dall'alto verso il basso frequenza crescente e ovviamente se la frequenza cresce diminuisce la lunghezza d'onda ovviamente una cresce l'altra diminuisce perché perché semplicemente la formula fondamentale dello spettro elettromagnetico prevede che la velocità della luce sia data dalla lambda per la f quindi dalla lunghezza d'onda per la frequenza e che vuol dire che sono visto che la velocità della luce nel vuoto è costante circa 3 per 10 all'ottava metri al secondo ovviamente lambda ed f devono essere inversamente proporzionali quindi se cresce una diminuisce l'altra questi 6.000 8.000 gradi del giallo mentre erano solo 800 quelli del rosso devono essere collegati in qualche modo a questa roba qua cioè il rosso ha una frequenza più bassa e una temperatura più bassa mentre man mano che io scendo nello spettro elettromagnetico quindi aumenta la frequenza l'azzurro ha una più alta frequenza c'è una stretta legame tra lo spettro elettromagnetico e la temperatura tanto che i fisici avevano studiato il fenomeno e avevano provato a mettere su un grafico in cui c'è energia a tempo e qui vedremo cos'è fra un attimo e qui vediamo la frequenza questo è il cosiddetto diagramma del corpo nero si può vedere che le varie curve dipendono dalla temperatura per esempio questo è 300 kelvin e il picco dei 300 kelvin quindi un corpo nero scaldato fino a 300 kelvin emette soprattutto sul rossastro va verso anzi verso l'infrarosso quasi rosso ok questa situazione è descritta perché perché il picco ovviamente quello che ci dà il colore prevalente quindi ci sono anche gli altri ma sono in minima parte l'area sottesa dalla curva invece tutta l'energia man mano che la temperatura aumenta ok man mano che la temperatura aumenta succede che il picco si sposta verso destra e quindi i colori cambiano no e quindi da 300 a 500 sarà più verso l'arancione giallo poi 1200 si sposta sempre di più eccetera eccetera quindi queste curve ci stanno dicendo che più mi sposto più aumento l'energia più fornisco energia al corpo nero più il suo picco si sposterà verso destra e quindi posso calcolare poi sperimentalmente qual è la frequenza emessa dal corpo nero a seconda della temperatura che viene fornita fin qua non c'è nulla di strano e quindi problemi sono i modelli che provano a rendere conto di questi grafici questi sono grafici sperimentali quali sono i modelli che fino a quel momento funzionano ce ne sono due fondamentalmente il primo modello teorico utilizzato è quello di jeans relay il modello di jeans relay è quello che prova a descrivere il fenomeno appena studiato qua appunto da questi grafici sperimentali ma riesce come si può vedere dal grafico a descrivere solamente le basse frequenze perché poi ha un andamento di questo tipo poi qua tenderà all'infinito la cosiddetta catastrofe ultravioletta tecnicamente quindi quando la frequenza si sposta verso destra quindi verso gli ultravioletti il modello ideato da jeans relay non riesce più a descrivere la situazione viceversa il modello di vin che è questo qui che viene subito dopo il modello di jeans relay vin è un altro fisico chiaramente descrive perfettamente quello che succede ad alte frequenze ma il suo modello non riesce a spiegare quello che succede a basse frequenze quindi i due modelli messi insieme descrivono perfettamente il fenomeno se vogliamo così ma bisogna usarne uno per le alte frequenze e uno per le basse frequenze e questo era un problema nel senso che ovviamente per i fisici è molto importante trovare un'unica legge e qua proprio subentra Planck Planck ha un'idea che appunto è un'idea bizzarra se vogliamo ma poi si rivelerà un'idea che funziona diciamo così allora la sua idea è questa se prendo un corpo nero e considero che la sua emissione di luce quindi fornisco energia al corpo nero questo corpo si scalda per esempio diventa rossiccio ed emetterà una luce rossastra quindi emette un'onda elettromagnetica che tende al rosso poi lo scaldo di più e la sua onda elettromagnetica appunto tenderà al giallo quello che abbiamo appena detto ma che cos'è l'onda emessa? è una vibrazione come tutte le onde peraltro e allora lui ipotizza che a vibrare non siano nient'altro che le particelle che compongono il corpo nero nella fattispecie tendenzialmente elettroniche erano stati fra l'altro scoperti da poco la scoperta dell'elettrone nel 1897 ad opera di J.J. Thomson che è quello stesso del primo modello atomico il Planck Pudding quindi queste particelle è come se vibrassero quindi la vibrazione di ognuna di queste particelle ed è questa vibrazione questa oscillazione che permette all'aumentare della vibrazione aumenta la frequenza e quindi i colori e quindi la temperatura e quindi i colori è tutto conseguente uno all'altra diciamo così che si può assimilare questa roba a un cosiddetto oscillatore armonico l'oscillatore armonico non è nient'altro che una molla fissata in un punto se vogliamo banalizzare così qua ci sarebbe la mia particella no? la mia particella che vibra e la molla cosa fa? se questo è il punto di equilibrio qua si allunga raggiunge il massimo poi torna qua raggiungerà un altro massimo verso destra in questo modo e poi ritorna al punto di equilibrio eccetera eccetera continua questo se non ci sono forze di attrito a fermarlo questa sua vibrazione a destra sinistra avanti indietro continua all'infinito quello che si appunto si chiama simple harmonic motion no? e quindi l'oscillatore armonico potrebbe in un certo senso descrivere quello che succede a un corpo nero quindi gli elettroni che compongono la materia se sono assimilati a queste pesette attaccate a una molla che vanno avanti indietro allora il numero di oscillazioni dipende dall'allungamento della molla in questo caso dal tipo di oscillatore no? e quindi frequenze diverse a cui può essere associato sarebbero come dire che questa particella vibra di più perché è come se la molla che idealmente lo sta agitando facendo vibrare ha un allungamento maggiore e quindi la sua frequenza di allungamento cioè la velocità con cui vibra diciamo così è maggiore quindi frequenza maggiore colori più a destra più in basso nel grafico che abbiamo visto prima del campo del visibile quindi tipo azzurro blu, temperature più alte, oscillazioni maggiori del modellino della molla ora se si sommano tutti gli oscillatori che descrivano ogni particella carica del corpo si può ottenere l'energia totale del corpo stesso quindi io prendo ciascuno di questi oscillatori li sommo l'energia singola dei vari oscillatori e ottengo l'energia totale ma se fino a quel momento cioè fino a prima di Planck in un modello di questo tipo si attribuiva il valore dell'energia a caso cioè a caso vuol dire che l'energia era distribuita in maniera non definita quindi una particella vibrava con una determinata energia un'altra con un'altra eccetera eccetera le possibili distribuzioni sono di per sé infinite essendo l'energia appunto un valore continuo come può essere insieme dei numeri reali come può essere l'altezza che io devo muovere da un punto a un altro così capite già dove stiamo arrivando i valori teorici dell'energia da qui a qui sono infiniti non sono strutturati ebbene Planck ha l'idea di invece distribuire l'energia a pacchetti ben definiti quindi frequenze basse corrispondono a pochi pacchetti perché poca energia e quindi se c'è un pacchetto definito io ho poca energia avrò pochi pacchetti se invece ho tanta energia avrò tanti pacchetti quindi non sono dei numeri casuali o comunque continui ma sono dei numeri impacchettati quantizzati appunto discreti e come dire quindi a bassa frequenza pochi pacchetti ad alta frequenza altri pacchetti sarebbe come dire che Babbo Natale consegna un solo pacchetto all'indirizzo X perché lì c'è poco rumore sente poco rumore e quindi presume che ci sia un solo bambino mentre nell'indirizzo Y ne consegna tre di pacchetti perché lì c'è una famiglia molto più rumorosa e quindi presumibilmente ci potrebbero essere almeno tre bambini ecco questo è il discorso che fa diciamo banalizzato ma è il discorso che fa Planck cioè Planck associa alla frequenza quindi all'energia emessa un tot di pacchetti di energia quindi sostanzialmente sta dicendo che è meglio lavarsi facendosi la doccia piuttosto che facendosi il bagno oppure come dire che è meglio suonare il pianoforte e non suonare il violino perché? perché il pianoforte permette solo note discrete io non posso suonare che ne so tra il Sol e il La io ho solo un altro semitono quindi o suono il Sol o suono il Sol diesis o suono il La non ci sono alternative in un piano di un pianoforte mentre in un violino il dito lo posso mettere teoricamente ovunque tra il Sol e il La e quindi ecco perché si stecca facilmente col violino e col pianoforte non si può sbagliare si può sbagliare nota sì ma non si può scegliere di suonare una cosa che c'è tra il Sol diesis ovviamente stiamo ipotizzando che si è accordato il nostro simpatico pianoforte quindi è come se Planck ci stesse dicendo la musica che si suona nel microcosmo è una musica pianistica pianistica e non violinistica non a caso il signor Planck era un ottimo pianista sarà un caso e non lo sappiamo cosa si intende però per microcosmo cioè perché Planck ha chiamato H quanto d'azione e l'ha riferito a delle energie molto piccole quindi innanzitutto il microcosmo è tutto ciò che riguarda il mondo atomico e subatomico quindi stiamo parlando di grandezze talmente piccole d'altronde la grandezza di 6 per 10 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo già dovrebbe farci capire di che grandezze stiamo parlando veramente piccole H uguale 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo ma piccolo non vuol dire niente in fisica è sempre rapportato a qualche cosa ed è qui che appunto dobbiamo introdurre e cercare di capire che cosa vuol dire azione perché non è un caso se Planck ha chiamato questo a grandezza quanto d'azione per capire che cos'è l'azione dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro cioè dobbiamo costruire un diagramma cartesiano per descrivere il moto di qualcosa quindi se chiamiamo l'asse delle x l'asse del tempo e l'asse delle y l'asse dello spazio questo è il primo grafico che si studia quando per esempio supponiamo di prendere un moto rettilineo uniforme quindi a velocità costante questo sarà descritto da una retta ovviamente se il moto invece è fermo sarà una retta parallela all'asse delle x perché il tempo passa ma lo spazio rimane lo stesso invece se è una retta io so che mi sto muovendo e ovviamente più la retta inclinata maggiore sarà la velocità a cui mi muovo poi l'altro è il grafico velocità tempo ecco nel grafico velocità tempo invece è proprio così il diciamo se questo era un moto rettilineo uniforme anche questo è un moto rettilineo uniforme che vuol dire semplicemente la velocità costante v uguale costante e poi v uguale costante una retta nel piano st e nel piano vt tendenzialmente ci si ferma qui cosa succede invece ovviamente l'accelerazione sarà descritta prendiamo un altro colore l'accelerazione sarà descritta quindi questo è un a uguale costante da una retta inclinata nel diagramma vt ma rimaniamo nel moto diciamo cerchiamo di tenere un moto rettilineo uniforme che è la base da cui poi si può descrivere tutto anziché utilizzare un grafico st o vt cambiamo e cerchiamo di costruire un grafico velocità spazio cioè nell'asse x usiamo lo spazio anziché il tempo da notare che in questi grafici qui per esempio per esempio il grafico questo velocità tempo che è quello che più si avvicina a quello che stiamo per fare una velocità negativa quindi sotto l'asse delle x cioè l'asse del tempo è una velocità semplicemente in direzione opposta a quella a cui stavo andando visto che la velocità è spazio fratto tempo ed è un vettore chiaramente il verso del vettore quindi verso dove sto andando determina anche il segno della velocità se il verso positivo è verso destra vuol dire che qui sto andando verso destra se il verso positivo è verso sinistra vuol dire che qui sto andando verso sinistra quindi il verde è verso sinistra ora in un grafico invece di questo tipo la cosa cambia leggermente perché? perché io posso rappresentare un moto rettilineo uniforme in questo modo ma se poi c'è un cambio di direzione sì è ovvio che devo scendere sotto diciamo devo andare qui questa è la velocità v alla quale mi muovo x metri al secondo questa è v di x chiamiamola così e questa sarà meno v di x ma in questo caso la rappresentazione non è di due rette che vanno tutte e due nella stessa direzione cioè mentre nel grafico velocità tempo quello che succede se io sto viaggiando a questa velocità a un certo punto cambio direzione il mio grafico lo dovrà rappresentare così perché qui stavo andando qui ho una velocità positiva quindi in questa zona stavo andando a destra in questa zona sto andando a sinistra quindi per esempio una pallina che rimbalza tra due pareti se la pallina va in questa direzione questo è il grafico che la descrive se rimbalza e torna indietro se fa così il grafico che la descrive invece è chiaramente quest'altro quindi questo è il secondo movimento il tipo di rappresentazione che posso fare in diagramma vt è questo qui ma invece se la stessa situazione quindi una pallina che rimbalza a destra e poi torna a sinistra e poi continua a rimbalzare non è nient'altro che una pallina che va verso destra poi improvvisamente cambia direzione che vuol dire che qui ci sarà un salto quasi istantaneo e tornerà a viaggiare verso sinistra visto che questo è lo spazio qua davvero mi sto rivolgendo a sinistra quando arriverò poi a questo punto della parete la pallina di nuovo rimbalzerà e quindi salirà su e quindi in questo modo si riprende il giro questo rettangolo non è niente altro che il grafico di una situazione di che cosa di una particella prima ho fatto ho detto una pallina ma se vogliamo un esempio realistico prendiamo una molecola o un atomo di un gas all'interno di una parete dove è stato fatto il vuoto spinto quasi o comunque dove la particella presumibilmente potrebbe non scontrarsi con nessuna allora questa particella farà ding dang cioè rimbalza a destra a sinistra in continuazione quindi fa questa sorta di vibrazione che di fatto è proprio una vibrazione ebbene ovviamente la particella ha una massa quindi tendenzialmente anziché usare la velocità useremo la quantità di moto q che chiameremo m per v cioè massa per velocità ma poco cambia a livello concettuale quindi questa qui la chiameremo q di x e questa meno q di x e invece diciamo così se il punto di equilibrio cioè metà della parete è L e quindi L ed L tutta questa lunghezza questa sarà L e questa sarà meno L ok? ebbene questa rappresentazione grafica in questa rappresentazione grafica l'area determinata da questa molecola che oscilla rimbalzando a destra e a sinistra dalle due pareti è proprio quella che i fisici chiamano azione cioè l'azione non è nient'altro che l'area di un oscillatore perché questo poi lo possiamo vedere adesso lo vediamo anche nell'oscillatore armonico che non è proprio un rettangolo ma il concetto è identico e l'area creata da un rettangolo di una particella che rimbalza a destra e sinistra di moto ovviamente in questo caso stiamo parlando di moto unidimensionale ma poi si può estendere il concetto in generale e se ci facciamo caso io posso calcolare l'area come facendo base per altezza ma la base cioè questa grandezza qui non è nient'altro che 2L perché da 0 a più L è lungo L da 0 meno L è lungo L quindi tutto è 2L l'altezza invece sarà data da più Q quindi Q di X e Q di X quindi sarà Q e Q e quindi saranno 2Q quindi 2L per 2Q quindi l'area che in genere si identifica con la lettera J che infatti è proprio l'azione uguale J si può calcolare in questo modo qui e se ci fate caso le unità di misura sono che cosa? L si misura in metri metri quindi e invece Q che è la quantità di moto è la massa chilogrammi per la velocità metri al secondo ora se io ci faccio caso questa è chilogrammi la posso scrivere anche come chilogrammi per metri quadri al secondo ma questa grandezza potrebbe ricordarmi all'unità di misura dell'energia cinetica l'energia cinetica è un mezzo di m per v al quadrato quindi l'energia cinetica è chilogrammi la massa per la velocità al quadrato che sarebbe metri quadri su secondo quadro se ci facciamo caso c'è solo un secondo di differenza tra questa e questa ricordiamo che ovviamente essendo energia cinetica questi sono i joule come unità di misura ebbene tra questa e questo c'è solo un secondo di differenza quindi mi basta prendere questa grandezza chilogrammi per metri quadri al secondo quadro e moltiplicarla per un secondo per ottenere la grandezza di prima cioè quella dell'area del rettangolo e quindi questa non è nient'altro che joule per secondo perché se ho moltiplicato per s quello che era in fondo il joule abbiamo scoperto che la J cioè l'azione si misura in joule per secondi ma qual è l'unità di misura della costante di Planck? esattamente joule per secondo si può capire che H è una grandezza fisica ben precisa cioè è l'area descritta in un grafico velocità spazio di una particella che vibra qualcuno però potrebbe obiettare giustamente che Planck parlava di oscillatori armonici e non di particella che rimbalza tra due pareti vero? ma la questione di fondo non cambia come vi ho detto e infatti se consideriamo quello che è considerato Planck cioè appunto gli oscillatori armonici dobbiamo considerare delle formule solo leggermente diverse vediamo in che senso utilizziamo sempre il modello della molla che vibra attorno a un punto di equilibrio come abbiamo fatto prima e che quindi viaggerà a destra e a sinistra questo è il punto di equilibrio questa è l'estensione massima noi sappiamo che sempre nel caso ovviamente ideale quindi senza attriti quindi appunto il moto armonico semplice di cui parlavamo il principio di conservazione dell'energia coinvolge oltre alla velocità anche la costante elastica di allungamento della molla cioè noi sappiamo che il principio di conservazione dell'energia ci dice che l'energia iniziale deve essere uguale all'energia finale perché se non ci sono dispersioni chiaramente possiamo scrivere che la somma delle energie cinetiche di tutto il processo di avanti e indietro più l'energia potenziale elastica deve essere costante data dall'energia totale ma noi sappiamo che l'energia cinetica è un mezzo di m per v al quadrato mentre l'energia potenziale elastica è data dalla costante elastica per x al quadrato dove x è l'allungamento della molla un mezzo anche qui un mezzo di k per x al quadrato in realtà sarebbe il caso di scrivere meglio questa in forma di quantità di moto cioè sapendo che q è uguale a m per v questo qui diventa semplicemente q quadro diviso 2m più un mezzo k x al quadrato ci dà l'energia totale ok questa è la formula da cui possiamo partire se ci facciamo se dividiamo tutto per e dividiamo tutto per e sarebbe l'energia totale ed e questo ovviamente si semplifica qua avrò uno e qua ho una situazione di questo tipo q quadro fratto 2m e più k x quadro fratto fratto 2e o meglio posso portare anche il k qui sotto scriverla così perché la voglio scrivere così uguale 1 perché scritta in questo modo questa è esattamente l'equazione di un'ellisse se ci facciamo caso x al quadrato fratto a al quadrato più y al quadrato fratto b al quadrato uguale 1 questa è l'equazione fondamentale di un'ellisse e quindi possiamo in buona sostanza descrivere l'oscillatore armonico nel diagramma sv anzi q quantità di moto spazio esattamente come un'ellisse in cui questi punti ovviamente e quindi i punti di massimo sarebbe la mia b no? la mia b dell'ellisse e sotto avremo meno b invece questo è a e questo è meno a la b sarà la radice di 2m e mentre la a sarà uguale alla radice di 2e su k perché se guardate di parallelo questo è a quadro e questo è b quadro quindi estraete la radice ottenete queste due grandezze ma l'area dell'ellisse si trova facendo cosa? l'area dell'ellisse si trova facendo pi greco per a per b e quindi l'azione in questo caso sarà data da pi greco per radice di 2m e per radice di 2e su k e quindi in buona sostanza j cioè l'area appunto in questo diagramma sarà uguale a 2 pi greco per e per la radice di m fratto k ma siccome noi sappiamo che in un oscillatore armonico omega è uguale a 2 pi greco su t dove t è il periodo omega è la velocità angolare quindi la velocità di oscillazione e questo è uguale a k su m allora possiamo scrivere che t è uguale da qui a 2 pi greco fratto la radice di k su m e quindi unendo questo che abbiamo appena detto con questo che abbiamo appena detto possiamo scrivere che t è uguale a 2 pi greco radice di m fratto k e quindi j non è nient'altro che l'energia per il periodo ovvero esattamente quello che ha tirato fuori Planck cioè j uguale il periodo all'inverso della frequenza t uguale 1 su f j uguale e diviso f e da qui possiamo concludere che e è uguale a j per f ovvero la nostra j che era l'area di cui parlavamo anzi cioè la nostra azione è esattamente h nel microcosmo possiamo anche dimostrare una serie di cose fra cui il principio di indeterminazione di Heisenberg perché perché se questa diventa se j in questo caso come ha supposto Planck diventa l'area più piccola che io posso misurare qui dentro se quest'area più piccola è appunto la mia h ebbene ovviamente se l'h è data da pi greco per a per b quindi nella piccola ellisse nella mini ellisse quindi la piccola a che è la semiasse maggiore più piccolo e il semiasse minore dell'ellisse piccola diciamo così se questa è a per b ma a non rappresenta nient'altro che la posizione mentre b non rappresenta nient'altro che la quantità di moto cioè la velocità in un certo senso e quindi vediamo che se h deve essere un minimo se h deve essere il minimo costante a questo punto io posso dire che se cresce a deve diminuire b e se cresce b deve diminuire a cioè l'indeterminazione rispetto alla posizione o la quantità di moto della particella vi ricordo che il principio di indeterminazione di Heisenberg dice che se misuro con la massima precisione la posizione non posso conoscere con devo accontentarmi di una bassa precisione nella misura della quantità di moto e viceversa ma qui proprio si vede che è intrinsecamente descritto da questa situazione cioè se l'area minima che io posso valutare è h cioè la costante di Planck allora se io aumento la precisione e la misurazione della posizione in cioè di a quindi nel parametro del calcolo dell'area dell'ellisse b deve diminuire e viceversa quindi possiamo concludere ragionando sul fatto che se volete sull'ordine di grandezza della costante di Planck cioè siccome l'ordine di grandezza abbiamo detto 10 alla meno 34 joule per secondo ordine di grandezza di h della costante di Planck su quale scala questa roba diventa valida? perché chiaramente se io prendo un pallone da calcio non ha più senso su scale grandi il professor Battimelli che giustamente dice che l'analogia migliore è quella delle dune nella sabbia se io le dune le guardo da lontano e devo studiare il loro movimento per me sono come delle funzioni continue ma se invece mi avvicino alla duna e prendo una manciata mi accorgo che sono fatte di piccoli granelli la stessa cosa vale per l'energia e per tutte le grandezze che nel microcosmo quindi saranno granulari e non sono continue mentre nel macrocosmo posso continuare a usare tutte le leggi della fisica classica perché il macrocosmo è fatto di... cioè è descritto perfettamente da grandezze continue non neanche vedo questo 10 alla meno 34 nel macrocosmo diciamo anche questa cosa la fisica è una scienza che non descrive perfettamente la realtà ma che crea dei modelli che con approssimazione ragionevole provano a descrivere la realtà Bohr diceva che la fisica non è la realtà se si vuole osservare la realtà bisogna aprire la finestra e guardare fuori quindi sono delle ragionevoli intelligenti se preferite approssimazioni comunque se vogliamo fare un esempio di scale e del fatto che questo trucchetto appunto artificio matematico aiuti a capire a descrivere delle cose del microcosmo basta pensare che nel caso di un pianeta intorno al sole se prendiamo il moto di un pianeta intorno al sole per esempio della terra intorno al sole l'azione in questo caso quindi la j di un pianeta intorno al sole che è anche un moto armonico come potete intuire no? perché è un moto che si ripete nel tempo è qualcosa tipo 2 pi greco per r per m per v ok se considero un moto circolare uniforme cosa che è quasi quasi realistica dove r è la distanza terra sole no? quindi stiamo parlando di milioni di chilometri m è la massa della terra anche qua siamo a cifre esorbitanti v è la velocità capite bene che queste robe qui già da sole non sono non solo sono lontane da 10 alla meno 34 ma semmai sono vicine a 10 alla più 34 quindi c'è una differenza abissale e la costante di Planck risulta trascurabile per quello che abbiamo detto prima le grandezze la fisica descrive che sono modelli in cui possiamo utilizzare delle approssimazioni ragionevoli e qui in questo caso nel moto dei pianeti intranassolo non ha senso parlare di costanti di Planck se però considero l'atomo e considero che per esempio in questo stesso esempio considero invece l'elettrone che gira intorno al nucleo ovviamente non è propriamente così ma posso approssimare in questa situazione giusto per capire le unità di misura in gioco un elettrone che gira intorno a un protone l'azione in questo caso è sempre 2 pi greco r per m per v ma attenzione perché il raggio è circa 10 alla meno 10 metri la massa più o meno è dell'ordine di 10 alla meno 30 circa chilogrammi la massa di un atomo e la velocità è di circa 10 alla sesta metri al secondo ebbene se fate i calcoli 10 alla meno 10 per 10 alla meno 30 fa 10 alla meno 40 per 10 alla sesta fa 10 alla meno 34 che è esattamente lo stesso ordine di grandezza della costante di Planck ecco perché all'interno dell'atomo h non è più trascurabile nel microcosmo dobbiamo tenere conto del quanto d'azione grazie a tutti Grazie.